Cazzoni va questa volta al tentativo di cross, palla che passa la G Alla grande, super goal della Latina che trova il pareggio, palla che è passata, ma che giocata E 1-1 al ceravolo tra Catanzaro e Latina Ma questo è un super goal veramente di Giorgini che ha fatto l'attaccante, ha festeggiato nel migliore dei modi Il rinnovo contrattuale, la girata in maniera impeccabile, nulla da fare per Nocchi 1-1 al ceravolo, ha trovato il pari, il Latina sorpreso, il Catanzaro E dunque alla mezz'ora ancora si ritorna sui binari della parità Come si era iniziato mezz'ora fa